Lo voglio dire ancora, noi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non siamo favorevoli al lockdown come strumento principale per controllare il virus. Crediamo che il confinamento sia giustificato solamente per prendere tempo al fine di riorganizzare, riunire e bilanciare di nuovo le risorse e proteggere gli operatori sanitari stanchi. Tuttavia noi non lo auspichiamo. Guardate per esempio che cosa è accaduto al turismo nei Caraibi o nel Pacifico, dove la gente non va più in vacanza. Guardate che cosa è accaduto ai piccoli agricoltori in tutto il mondo con i mercati che sono andati in rovina. Guardate cosa sta accadendo con la povertà. Sembra che potrebbe esserci un raddoppio del livello di povertà l'anno prossimo. Potremmo avere un raddoppio della malnutrizione infantile perché i bambini non ricevono cibo sufficiente a scuola e in famiglie povere i genitori non riescono ad acquistarlo. Questa è una terribile e grave catastrofe globale. Facciamo appello a tutti i leader mondiali, basta utilizzare i lockdown come mezzo di gestione primaria del virus. Sviluppate sistemi migliori per il controllo. Lavorate insieme e imparate gli uni dagli altri, ma ricordate, i lockdown producono una conseguenza che non dovete assolutamente sottovalutare. Producono poveri, gente sempre più povera.